Lunedì 12 aprile in Puglia sono stati registrati 6.220 test per l'infezione da Covid-19 e sono stati registrati 815 casi positivi. 297 in provincia di Bari, 59 in provincia di Brindisi, 33 nella provincia BAPT, 172 in provincia di Foggia, 224 in provincia di Lecce, 26 in provincia di Taranto, tre casi di residenti fuori regione, un caso di provincia di residenza non nota. Sono stati registrati 39 decessi, di cui 5 in provincia di Foggia, 51.576 sono i casi attualmente positivi di Covid-19 in Puglia che confermano un aumento ulteriore di contagi.